La prima puntata che è pure l'ultima C'è solo una cosa che mi attrae veramente in una donna Aridai Sarai il paziente più chic dell'ospedale Quest'operazione vogliamo soprassedere? Voi, soprassediamo Martedì alle 21.20 Io non credo alla colpevolezza del professor Marra Lei non ha idea di che possa averlo ucciso Donno, hai scoperto che è il vero assassino? Vuoi pazienza, no? Quello che mi preme invece è un'altra cosa Si è più saputo qualcosa della morte di quel tizio Penso che non si arriverà mai a sapere la verità Una pallottola nel cuore 2 Posso fare una foto? L'ultima puntata Ah, su Rai 1, mi raccomando